La depressione del 29 ebbe tale estensione profondità e durata per il fatto che il sistema economico internazionale venne reso instabile dalle incapacità della Gran Bretagna e dalla non disponibilità degli Stati Uniti ad assumersi la responsabilità della stabilizzazione su tre piani 1. Mantenere un mercato relativamente aperto per le scorte di merci in difficoltà dal caffè brasiliano al frumento americano 2. Provvedere alla fornitura di prestiti anticiclici a lungo termine cosa che aveva saputo fare l'Inghilterra nell'Ottocento 3. Sostenere il credito durante la crisi dentro e fuori gli Stati Uniti le perturbazioni che vennero al sistema della sovrapproduzione anche Kindleberg la riconosce di certi prodotti primari come il frumento dalla riduzione dei tassi di interesse statunitensi nel 27 ammesso che si sia verificata sono tutte cause che vengono indicate della crisi dalla cessazione dei prestiti alla Germania nel 28 o dal crollo della borsa nel 29 non furono poi così forti perturbazioni altrettanto forti si erano avute con la caduta del mercato dei titoli nella primavera del 20 con la recessione del 27 ed erano state neutralizzate il fatto è che il sistema economico mondiale era destinato all'instabilità a meno che qualche paese non provvedesse a stabilizzarlo come la Gran Bretagna aveva fatto nel XIX secolo fino al XIII nel 29 la Gran Bretagna non ne fu più capace gli Stati Uniti non vollero farlo e quando ogni paese si volse a proteggere il proprio interesse privato nazionale l'interesse pubblico mondiale venne messo fuori gioco e insieme ad esso l'interesse privato di tutti ecco perché si diceva che nel 44 avevano imparato la lezione e questa nuova elite politica intellettuale di economisti non fece quegli errori